Benvenuti cari follower. Guarda il video di un vero disastro, l'incidente aereo avvenuto oggi con più di 62 passeggeri e le immagini terrificanti riprese dalle telecamere di sorveglianza. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci e incoraggiarci premendo il pulsante mi piace per questo video e iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche. Grazie. Quindi ora abbiamo ricevuto notizie scioccanti. Un aereo brasiliano che trasportava 62 persone ha subito un incidente improvviso oggi in Brasile. Questo aereo si è schiantato completamente e nel momento in cui l'aereo è caduto sono state fotografate queste immagini terrificanti dell'incidente aereo. Fino ad ora non ci sono informazioni confermate il numero dei morti, ma come ho detto c'erano 62 persone all'interno di questo aereo precipitato oggi, di cui 58 passeggeri regolari e 4 persone che lavorano nell'equipaggio. Cercheremo di comunicarvi altre notizie importanti in seguito.